Musica Buonasera da Infostudio, martedì 5 settembre. Oggi c'è stata una riunione convocata d'urgenza dal prefetto di Reggio Calabria di Bari sull'episodio di Taurianova ed è stato deciso di disporre la misura della sorveglianza per la famiglia, ovviamente per lui, per il sindaco di Taurianova, Fabio Scionti, al quale la notte scorsa i gnoti hanno fatto saltare in aria un'auto, un'auto che usava la moglie. La decisione, ripeto, è stata adottata a conclusione di questo vertice urgente, c'erano naturalmente i dirigenti delle forze dell'ordine sul territorio, c'erano il prefetto di Reggio Calabria de Rao che coordina la DDA e c'era il prefetto di Palmi Sferlazza. Viunione che è servita anche ad analizzare accuratamente le dinamiche criminali di questo evento nel contesto della più generale situazione della sicurezza pubblica di Taurianova. Quindi nei confronti del sindaco è stata disposta l'intensificazione delle misure di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio. Avete visto prima le immagini dell'auto, poche quelle notturne per la verità, queste sono quelle girate invece nel cortile interno dell'abitazione del sindaco. Sulla stradina, poco distante dalla casa del sindaco che abita alla periferia di Taurianova, stradina sulla quale era parcheggiata la Toyota Yaris che è stata sventrata da un ordigno ad alto potenziale. Fabio Scionti era stato eletto nel novembre del 2015 dopo il commissariamento perché Taurianova è stato sciolto per ben tre volte il comune per infiltrazioni mafiose e in passato aveva già ricevuto lettere di minacce. Inoltre, pochi mesi fa, gli era stato avvenenato il cane che il sindaco teneva libero nel giardino di casa. Le reazioni sono tantissime, Scionti ha detto poche cose, sono frastornato, bisogno di capire le parole del sindaco. Nel pomeriggio il PD ha fatto sapere che Matteo Richetti, che è il portavoce nazionale del partito, sarà in Calabria, sarà a Taurianova l'8 settembre prossimo, quindi venerdì prossimo, insieme al segretario regionale Ernesto Magorno. A mezzogiorno ci dovrebbe essere l'incontro con il sindaco. Per Davide Mattiello, componente della commissione antimafia parlamentare del PD, ha scionti alla famiglia una solidarietà fatta di attenzione, ha detto. Investigatori e magistratura ci daranno presto un quadro più preciso del grave attentato. E di consapevolezza, questo è il nostro quadro terrorismo, il nostro quotidiano terrorismo, scusate, che sia mafiosa la mano o mafiosa la cultura di quella mano. Questa è da sempre la principale minaccia alla tenuta democratica del nostro Paese, perché mortifica ed intimidisce le persone oneste che vogliono fare politica, impresa e cultura. Di autentica barbaria ha parlato il presidente del Consiglio regionale, che avrebbe potuto provocare poi conseguenze drammatiche. Il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, gesto di violenza inaudita, quelle di Ernesto Magorno. Il coordinatore della segreteria nazionale del PD, Lorenzo Guerini, ha espresso solidarietà a scionti. Ha condannato fatti di una barbarie tale che ci auguriamo, ha detto Guerini, che forze dell'ordine magistratura possano fare piena luce per chiarire ogni responsabilità. E nei prossimi giorni, lo ha annunciato il sindaco di Reggio Calabria, Falcomata, a Taurianova ci sarà un consiglio metropolitano aperto per dimostrare a scionti e ai suoi concittadini la vicinanza delle istituzioni e dell'intera comunità metropolitana. Solidarietà da ogni parte politica al sindaco di Taurianova e anche quella naturalmente del presidente della regione Oliverio. Ennesimo sequestro di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro. Agenzia delle Dogane e Guardie di Finanza hanno sequestrato infatti quasi 53 kg, 52 kg e 700 g di cocaina in un'operazione coordinata dalla DDA. La cocaina era in un container che era partito dalla capitale paraguaiana di Assunzion ed era diretta ad Haifa in Israele. La cocaina era suddivisa in 49 panetti. Sul mercato venduta avrebbe fruttato 10 milioni di euro. Si chiamerà Cantiere Calabria, questo è il titolo, della tre giorni che la presidenza della giunta regionale organizzerà dal 14 al 16 settembre prossimi presso il centro congressi dell'Università della Calabria, quindi ad Arcavaga di Rende. L'ho reso noto oggi l'ufficio stampa della regione Calabria. La tre giorni sarà una messa a punto, è detto nella nota della regione, dei temi più importanti legati alla crescita e allo sviluppo della nostra regione. Ben cinque i ministri annunciati. Marco Minniti, ministro dell'Interno, Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, quello per le politiche di coesione, anzi Claudio De Vincenti, ed il ministro dello sport Luca Lotti. Poi ci saranno ovviamente esponenti del mondo istituzionale, accademico, delle associazioni, dell'impresa, del sindacato e delle professioni. Già preannunciato per il 10 ottobre invece un'iniziativa sulla legalità, il contrasto alle mafie, il welfare e il lavoro alla quale parteciperà il ministro Giuliano Poletti. Successivamente ci sarà anche un'iniziativa sulla scuola, sull'istruzione in genere, la cui data però ancora non è stata fissata. Neanche il giorno in cui viene siglata la convenzione tra Enac e Sacal, che dovrebbe se non altro spianare la strada verso la riapertura, l'aeroporto di Crotone può dormire soni tranquilli. E questo a causa delle troppe contrastanti e preoccupanti notizie, come fa notare l'amministrazione comunale, che ogni giorno compaiono sulla stampa. E allora ci si chiede se davvero il momento della riapertura, il momento in cui gli aerei torneranno ad atterrare, a decollare, dai per Crotone, è davvero vicino o no. Da un lato la firma della convenzione tra Enac e Sacal per la gestione trentennale della struttura. Dall'altro la perdurante incertezza sul futuro a causa delle preoccupanti notizie che arrivano dalla mezzia terme. Quando sembra che faccia un passo avanti verso la riapertura, l'aeroporto di Crotone viene raggelato da quello che accade all'interno della società, che dovrebbe prenderne in mano le sorti. Ieri a Roma il direttore generale dell'ente nazionale per l'aviazione civile Alessio Quaranta e il presidente di Sacal, Arturo De Felice, hanno sottoscritto la convenzione che specifica tutti gli oneri e gli obblighi che Sacal assume per la gestione dello scalo di Crotone e che rappresenta un passaggio fondamentale per il rilascio della concessione trentennale da parte dei ministeri dei trasporti, dell'economia e delle finanze, che avverrà attraverso l'emanazione di un apposito decreto interministeriale. Ma sempre ieri, mentre la fase gestionale faceva registrare un passo in avanti, il sindaco e la giunta comunale di Crotone, con un documento, hanno espresso preoccupazione sul futuro dello scalo a causa delle contrastanti notizie di questi ultimi giorni, che descrivono una netta contrapposizione all'interno della società aeroportuale Lamettina sia a causa di una situazione finanziaria definita critica da parte del socio privato, sia per via della battaglia legale tra lo stesso socio privato e la parte pubblica. Per la città di Crotone, detto nel comunicato di sindaco e giunta, l'aeroporto non è e non può essere sterile oggetto di disputa su numeri e strategie politiche, bensì il motore indispensabile dello sviluppo sociale e della realizzazione dell'enorme potenziale della provincia e dell'intera fascia ionica. Sulla riapertura dell'aeroporto, il comune di Crotone, pur non avendo alcun ruolo gestionale, ha puntato molto, come dimostrano le decisioni di finanziare con 300.000 euro le attività di start-up in soccorso di Sacal e di partecipare all'aumento del capitale sociale, anche se finora non ha ricevuto alcuna risposta formale. Ma da Piazza della Resistenza si è ribadita la ferma esigenza che i voli da e per Crotone ripartano subito e con continuità, anche perché sono già trascorsi più di sei mesi dalla giudicazione della gara indetta dall'Enac. Per l'amministrazione comunale crotonese, dopo la firma della Convenzione, da oggi ogni giorno è quello buono e le vicende legali in corso tra i soci sono un problema che non può riguardare Crotone ed i suoi cittadini. Ne può esserlo il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, che per la Sacal rappresenterebbe l'ennesimo ostacolo. Quella causa, di cui Sacal era perfettamente consapevole, si ricorda nel documento dell'amministrazione, è stata avviata da Enac per ribaltare il giudizio del Tar Calabrese sulla gara dichiarata illegittima e non dalla Sagas, partecipata dal Comune come socio di minoranza con una quota del 34%. E dunque, secondo il Comune di Crotone, le recenti dichiarazioni sugli effetti del ricorso hanno l'aspetto di una vera e propria scusa. In ogni caso, Sacal e la chiusura della nota del Comune di Crotone, De Felice ed il Presidente Oliverio facciano subito le loro proposte anche su questo punto e nelle sedi sociali verranno prese senza esitazione le decisioni più opportune. Ma nessuno pensi di utilizzare questo o altri argomenti per giustificare un solo giorno in più di ritardo nella riapertura dell'aeroporto di Crotone. Tre notizie di cronaca prima di chiudere. A Simeri Crichi il cadavere di un uomo di 58 anni è stato trovato all'interno di una roulotte parcheggiata nelle vicinanze della sua abitazione. La morte dell'uomo che era separato viveva da solo e spesso dormiva all'interno della roulotte. Risalirebbe almeno un paio di giorni fa. A trovare il cadavere già in stato di decomposizione sono stati alcuni parenti allanuati per il fatto che il congiunto non rispondeva alle loro telefonate. L'uomo non aveva problemi di salute però è molto probabile sia morto per un malore improvviso. Sul corpo non sono state rilevate lesioni o segni particolari. Sta di fatto che la magistratura ha disposto l'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Due commercianti ambulanti di Caraffa di Catanzaro Lorenzo Fimiano di 45 anni e Raffaele Verre di 49 sono stati fermati dai carabinieri per tentato omicidio. Sarebbero loro ad aver accoltellato un 31enne di Campora San Giovanni Diamantea, per essere più precisi, residente in Germania anche se il fatto è accaduto proprio nella frazione di Campora San Giovanni sabato scorso quando erano in corso i festeggiamenti per il Santo Patrono. Ci sarebbe stato un litigio per futili motivi che poi è degenerato. La vittima ora è ricoverata in ospedale alla Mezzia Terme. Un operaio alle dipendenze di una ditta che sta eseguendo lavori sulla linea ferroviaria Ioni che è stato denunciato dai carabinieri per aver provocato un incendio. Stava usando una smerigliatrice e ha prodotto le scintille che hanno innescato l'incendio della vegetazione secca che si trovava ai margini della ferrovia e che poi però si è esteso anche a una superficie di due ettari tra macchia meriterranea e terreno incolto tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli operai di Calabria Verde per estinguere il fuoco che minacciava di estendersi ulteriormente e fra l'altro il fumo ha anche causato disagi alla circolazione sulla vicina statale 106. Era la notizia di chiusura per questa sera. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del Telegiornale ovvero domani alle 13.45. Grazie a tutti i nostri spettatori